Ancora quel nano Sindri? Ehi Sindri, abbiamo qualcosa di interessante Ah si? Adoro le cose interessanti Un altro qui Questa gigantessa è una strega Si chiama Groa Aveva delle visioni Odino l'ha uccisa per un libro Ehi Sindri, daresti un'occhiata a questo? Non ho molto altro da fare Caspita, avete ucciso un antico? Si E' stato difficile? Si Questo è tutto ciò che potete darmi? Si Oh, mi farebbe bene distrarmi Tipo giusto che sei Ma pensa È stupenda È stupenda da un'occhiata a questo? Mi fanno E questo è tutto ciò che sei No, 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 solo una domanda, sì, va bene, va bene. C'era qualcos'altro? No, no, solo una domanda, sì, va bene. No, 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 solo una domanda, sì, va bene. No, 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 solo una domanda, sì, va bene. Chissà cosa sono attaccati.